benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di lele oggi vi parlo come spesso accade come spesso ama fare le pillole di un personaggio rimasto nel dimenticatoio fino a non molti anni fa attivo già alla fine degli anni 60 di troi lui si chiama sixto rodriguez è una storia che probabilmente avrete già conosciuto soprattutto grazie ad un documentario pensate sixto rodriguez è stato un musicista che pubblica due album di protesta di impegno politico una sorta di bob dylan psichedelico alla fine degli anni 60 poi sparisce non anonimato diventa un operaio prima edile poi lavora in una delle tante fabbriche automobilistiche della sua città appunto detroit salvo scoprire nel 1989 è una celebrità ma dove non negli stati uniti ma in sudafrica dove le sue canzoni sono state usate come canzoni di protesta contro l'apartheid e da un grande seguito tant'è che andrà a fare un paio di tournée di grandissimo successo ma nel mondo resta ancora un personaggio sconosciuto non fosse che nel 2013 salta all'occhio alla curiosità di questo regista svedese malik banjelul e realizza questo documentario appunto searching for sugar man cercando in sostanza le orme di sixto rodriguez e e in questo documentario molto commovente riscopriamo la vita la storia di questo dimenticato personaggio una storia che ha poi una coda a questo documentario pensate questo documentario vince l'oscar se lo avete già visto sapete di cosa sto parlando nel 2013 e appunto viene considerato anche per il regista un successo ma malato di depressione nel 2014 si è tolto la vita una storia triste in una storia già di per sé particolare vi consiglio comunque la visione sia del documentario che almeno l'ascolto dei due album di sugar man sixto rodriguez grazie a tutti Grazie a tutti.